buongiorno a tutti e bentrovati oggi parliamo di fioriture per poter garantire al nostro laghetto al nostro mini pond una fioritura che duri tutto l'anno dobbiamo ricorrere a determinati tipi di piante già nel periodo di marzo possiamo prendere in considerazione la calta e la calla nel periodo di aprile i primi iris quindi l'iris sibirica louisiana e pseudacorus e poi nel periodo diciamo subito dopo quindi di maggio troveremo l'iris sensata e pseudata invece nell'ultimo periodo che vado a giugno in poi importante è nominare le talie e le pontederie che fanno dei fiori bellissimi blu e viola per ultima ma molto importante che è un po la regina dei laghetti è la ninfea e una delle ninfei diciamo molto fiorifere proprio la magdala umbol per finire vi ricordo di visitare il nostro sito www.waternarcery.it buona giornata